ciao ragazzi sono mauro del mondo del barbaco di padova stiamo facendo una recensione dal negozio più grande d'italia di barbaco quindi vi invito a visitare il nostro sito www il mondo del barbaco puntuit e di seguirci sempre con queste nostre nuove recensioni oggi parliamo di un prodotto veramente molto molto bello nuovissimo della casa canadese napoleo napoleo è una delle aziende più grandi al mondo sicuramente una delle migliori aziende di barbaco al mondo a livello mondiale e oggi parliamo di un prodotto interessantissimo sia come dimensioni sia soprattutto come qualità stiamo parlando del rogue rse 425 rs ib iniziamo subito dalla cosa più importante la griglia di cottura allora stiamo parlando di una griglia di cottura da 60 cm per 45 di profondità notate subito che la macchina è quasi interamente in acciaio inox con griglie in acciaio tondini d'acciaio di 8 mm di spessore scendendo nella vasca troviamo tre bruciatori principali con diffusori di calore in acciaio inox di spessore molto elevato da notare che i bruciatori sono hanno questa forma un po particolare con doppia fiamma per garantire tantissima potenza tolgo anche un altro diffusore di calore per vedere la vasca interna che è in fusione d'alluminio con il vascone sotto raccogli grasso completamente in acciaio inox che si estrae frontalmente questo lo vediamo dopo quando scendiamo più in basso dietro troviamo un bruciatore posteriore a gas che serve quando utilizzo il girarosto quindi utilizzando il girarosto accendo solo quel bruciatore posteriore il grasso scende non prende fuoco perché tutti i bruciatori sotto sono spenti e avrà una cottura veramente molto molto uniforme e molto croccante proprio per l'effetto del calore diretto del bruciatore seconda griglia di cottura che mi serve per cucinare cose tipo a livello forno senza grigliare che è abbastanza comoda però è molto grande facilissima da togliere il coperchio è in acciaio inox con interno isolamento in lamiera zincata i fianchi sono tutti in fusione d'alluminio e riprendono la serie prestige pro quindi la serie top di gamma come forma e come ergonomia lateralmente troviamo qualcosa che fa la differenza rispetto agli altri marchi di barbecue il bruciatore laterale può essere utilizzato con una normale pentola quindi posso farmi la pasta asciutta o tutto quello che voglio scaldare dell'olio per friggere oppure ed è nato proprio per questo scopo posso utilizzarlo per cucinare costate fiorentine tagliate filetti carni magri insomma perché questo è un bruciatore a infrarossi a gas che può arrivare fino a 900 gradi e non fa fiamma ma fa un tappeto di calore radiante vedete che la griglia di cottura in ghisa può essere anche alzata e messa in due altezze completamente differenti ho anche qui naturalmente la regolazione della potenza con la manopola posta frontalmente veramente qualcosa che fa la differenza soprattutto a chi piace cucinare costate fiorentine tagliate frontalmente troviamo tre bruciatori principali una due una tre una manopola che serve per regolarmi il fuoco laterale che abbiamo visto l'altra manopola mi accende il bruciatore posteriore a gas per il girarosto tutte le manopole sono retroilluminate con questo semplice pulsante che fa veramente un effetto super figo di sera l'accensione è elettronica tramite pulsante altra chicca questo ripiano è pieghevole velocissimo tra l'altro il sistema di pieno di piegamento ho un cavatappi perché non ci manca mai la birra finché facciamo barbecue ricordatevi quindi qui avete la comodità di avere un cavatappi sempre a portata di mano per la vostra birra la parte bassa del carrello può tenere bombole fino a 10 kg e vediamo insieme una cosa che interessa veramente a tutti che è la vaschetta raccogli grasso che è estremamente facile da estrarre e totalmente in acciaio inox quindi il grasso scivola su questa vasca principale e va tutto raccolto nella vaschetta usagetta che vedete qua in fondo che io adesso tolgo qui ci sono le vaschette ricambio appositamente fatte per questa vaschetta altra cosa interessante tutte e quattro le ruote sono completamente bloccabili tramite freno e abbiamo una comoda vaschetta laterale per mettere magari l'olio o altri attrezzi per la cottura ok bene siamo arrivati alla fine anche di questa recensione penso che a tutti interessi il prezzo di questo fantastico barbecue intanto come portata abbiamo detto 8 10 persone qualcosa anche in più forse interessantissimo discorso del bruciatore infrarossi a gas che abbiamo visto prima per fare costate fiorentine e questo lo straconsiglio veramente per chi è un appassionato di quel tipo di carni prezzo che non è un prezzo base sicuramente ma è giustificato dall'ampia qualità dei materiali tantissimo acciaio inox grigli in acciaio inox bruciatore infrarossi a gas che quello solo quello costa già un botto e vi fa alzare purtroppo il prezzo del barbecue però io mi sento veramente di consigliare questo barbecue a chi vuole qualcosa di solido di definitivo di estrema qualità ok vi invito a iscrivervi naturalmente nel mio canale youtube per essere sempre aggiornati con nuovi video nuove recensioni e naturalmente vi presenteremo tutto quello che c'è di nuovo nel mercato del barbecue ok tanti saluti e buona giornata a tutti